Sto qua, era lì a fare le torte di sabbia con la sua amica, entrambi cinque anni, e di colpo la guarda e fa «Sai, se vuoi sulla torta ci puoi mettere dei sassi, bioban!» La bambina mi ha guardata del tipo «Il mio collega può dire queste cose?» E io non sapevo che dire, perché sì, è una bestemmia, però è una bestemmia educata, da salotto. Io mi sono immaginata i bambini, quando non li guardo, che si comportano tra di loro tipo dammine dell'Ottocento. «Messere, ha piovuto alquanto stamani!» «Madama, lo può ben dire?» «Il Veneto!»